ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e ci siamo tornati con il nostro vini cannoli signori allora prima di partire il video vi ringrazio per il like per i commenti piacenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale di fare un salto anche sul mio primo canale mi trovate sempre come maullo 941 detto questo signori non perdiamo un altro tempo e partiamo con questo decimo episodio signori nell'episodio precedente abbiamo fermi tutti fermi tutti no 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 oh zio aspetta ma questo spara solamente davanti questo non spara indietro no no va malissimo è sbagliatissima questa cosa zio quello non guarda le spalle è gravissima questa cosa io pensavo fosse lui invece no 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 pensavo fosse lui no ma porca allora la pistoletta non va non va tanto bene ma tu ma spara ma spara il tizio lì o stavamo stiamo portando indietro a giro solo per 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 pubblicità allora no cambiamo arma signori perché non ci siamo dai così dammi il fucilotto occhio occhio ora nessuno oh ok c'è una pistoletta ridicola non riesce assolutamente a difenderci e a difendersi oh tanta roba signori bombe per noi che no tutta vostra hanno avuto la mia stessa idea signori per no la ma la la hanno hanno tirato la bomba di gas ma che bastardi di qua c'è niente no io perché ho paura di andare la sotto signori io lo so già che succederà un casicchio terribile no no occhio la bomba di gas noi non abbiamo ok falli venire no 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 occhio frankie guarda loro c'hanno dai così c'hanno abbiamo preso un'altra arma può essere abbiamo preso qualcosa di interessante no forse abbiamo preso la porca spara vini mannaggia te dai così in piena faccia quest'arma non ha uguali signori questa arma non aspetta no graziosa questa cosa gli zombie se la prendono pure con loro questa cosa è molto interessante prima che noi siamo completamente morti qualcuno mi dà un un qualcuno mi dà un un caffè perché siamo morti malissimo e non c'è nemmeno un un salvataggio signori no la tizia la tizia del del night se lui sparasse invece di stare a guardare le fragole no io sono praticamente morto non so lui ma io sono praticamente morto ho bisogno di un caffè per riprendermi signori un caffettino punto di salvataggio buono così ok ci siamo un attimino ripresi ci siamo un attimino ripresi io però mi serve un'arma migliore signori mi posso dare fuoco a tutti porca miseria dai diamo fuoco diamo fuoco come se non ci fosse un domani fuoco come se non ci fosse una fuoco come se non ci fosse un domani dai così no bastardo ora ti vengo ti vengo allora fuoco a voi fuoco a te barbe più per tutti barbe più per tutti come se non ci fossero domani riesce da fuoco anche a loro perfetto cosa bellissima non andare noi a fuoco adesso siamo ancora vivi non sotto che problemi abbia ma io ti do fuoco direttamente questa bello bazooka aspettate qualcosa si fa interessa no no non voglio il bazooka zio continuiamo a dargli fuoco dai dai diamo il fuoco dammi fuoco è divertente dargli fuoco è divertente dare fuoco a tutti dai 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 così zombie arrostiti come se non ci fosse un domani c'è qualcun altro che vuole essere fatto allo spiedon tu ok altro tizio fatto allo spiedon questi li faremo pure allo spiedon caffè per noi bello così crei cannoli e questi li abbiamo messi a fuoco questi tutti i tedeschi bastardi noi no no amici tutta come si permette questo dei tira come si permettono questi di tirare le bombe e poi la sopra mi piace un po di carne arrostita e bandata a quel paese porca miseria quando ci voleva mazzare acqua e non la bombola bastardo aspettate forse è rimasto qualcuno qui in vita tieni un'altra bella arrostita anche per lui ok grazie per le munizioni grazie per l'arma torniamo un attimo indietro che sono morti tutti sì noi però abbiamo quasi finito tutta questa missili ne abbiamo un 3 non mi sembra il caso di andare cosa possiamo utilizzare utilizziamo il pompa pompa quello cazzuto signori pompa cazzuto dai così dai così dai con gamma sangue freddo andiamo 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 siamo andati quasi altro punto di salvataggio tante bombe per noi vuol dire che dovremo fare mamma mia quante munizioni signori la vedo la vedo difficile tutte queste munizioni non sono non sono bellissime però ce la possiamo fare questo no 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 dai cannoli ok abbiamo l'ultimo ma io quasi quasi caricherei signori non si sa mai meglio essere sempre belli carichi aspetta un attimo che facciamo divertire il tizio che è volato male ok ehi come ti permetti di non morire la cosa buona è che loro mi danno le loro armi questo ciao zio auguri no l'ho sbagliata precisa dai così carica carica che i cannoli carica carica aia aia preso due proiettate aia e un colpo di dimitra e basta avete rotto gli ultimi centimetri avete rotto e basta porca miseria sono immortali questi sono immortali questi porca di una miseria e che cavolo ok mi fate provare il bazooka abbiamo 8 colpi mi fate provare il bazooka bello aspetta 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 così poi no aspetta 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 che carico no siamo morti malissimo c'avevo un caffè davanti no no ha fatto la cretinata voleva giocare col bazooka ha fatto la cretinata signori vabbè dovremo un attimo recuperare tutta questa parte di qua mannaggia a me mannaggia a me mannaggia a me che ho voluto giocare col fuoco mannaggia a me che ho voluto giocare col fuoco guarda cosa cosa fa questo non si sa se si sta a proteggersi no no che vinnigono da te dai auguri e fin i maschi questa la bomba non gli ha fatto niente ma stiamo scherzando non ho fatto non fare niente la bomba no no madonna mi esplosa precisa in faccia questo è pronto a darmi fuoco quindi meglio allevarcelo subito dalle scatole No, hai caricato Vinny? Hai caricato Vinny? Dai, dai, no Stiamo marrendo troppe volte Sto andando in maniera troppo sportiveggiante Sto andando in maniera troppo sportiveggiante Ok Facciamo, facciamo meno, facciamo meno Facciamo meno Facciamo meno Facciamo che facciamo meno Ok, facciamo che facciamo meno Facciamo che facciamo meno Oh, meno male, lui ha imparato a sparare Quanto meno Oh Oh Bella Ok Ok Tuo zio Tuo zio Allora, ne molto dopo nell'acqua Ricordiamoci che non funziona Allora, scusatemi Mi ha andato il bazooka? Perfetto, divertiamoci Ok, signori Eh, vabbè Poi io sono scemo Eh, diamo un po' di Diamo, diamo del calore a queste povere persone Diamo del calore a queste povere persone Ok Diamo un po' di calore, poverini Stanno tutto il giorno lì da soli La bomba te la devi tenere nelle tue tasche Hai capito? Bello Eh, piglia fuoco Mannaggia di una miseria Ok, ce l'abbiamo fatta La zona sportiveggente l'abbiamo superata, signori Questa la posso prendere? No, perché non mi fai prendere la pistola? Va bene Però non posso salire qua sopra? No Ah, bella testata volante Va bene Ok Andiamo, andiamo Testata di vini Come se non ci fossero domani Allora, stiamo calmi Allora, io qui non ricordo benissimo la situazione Però Incendiamo tutto nel dubbio Nel dubbio Incendiamo tutti E va bene così Dai, gosh Facciamo spazio Facciamo spazio A te una bella molotov No Una bella molotov Non la vuoi? Guarda, è tanto carina Ecco, appunto Dico, una bella molotov Tutti in compagnia No, no Di qua non si ci va Dai, dai, dai Siamo morti un sacco di volte Porca di una miseria Ubriaca Questa le diamo fuoco pure subito Inseguono pure se è morta Inseguono pure se è morte E levati Ok Comunque il tizio che ci stiamo portando dietro è inutile Come poche cose al mondo Questi non c'è bisogno di dargli fuoco così Però a me mi sono intrippato a dar fuoco a tutti Signori, quindi diamo anche fuoco all'ora Allora Qualcosa mi dice che dobbiamo salire di qua Bella Una bella bombetta per voi Anzi, una molotov direttamente Così anche voi Mi fate una bella rostita di carne Ok E Occhio Allora, spero che il tizio lì vada a fuoco No, ok Ok, è andato a fuoco Dovrebbe partire come se non c'erassi un domani No, mi ha puntato Cioè, ve ne rendi secondo Ah, mannaggia a te Oh Abbiamo sprecato un sacco di cose Però va bene Questo ce l'ho qua Che proiettile Ok, dai 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 Dai, dai, dai Facciamo piazza pulita là C'è qualcun altro? No Possiamo intervenire? Sì Di lì No, no Occhio, occhio, occhio Ce ne freghiamo di quello là sotto Facciamo piazza pulita lì sotto Devo un attimino ricaricare l'arma Calma che ce n'è per tutti No Giù non scende signore Tanto non c'è niente Neanche per perdere sto tempo Dai Dai Forse la posso rendere di qua No Non la posso rendere di qua Chi c'è? Uuuu No Ma sono dei bastardi Ma dovete morire male Mi hanno sondato a fuoco Sì Ok Ce l'ho un attimo di tregua Mannaggia a voi Non ce l'ho Un attimo di tregua Non ce l'ho Ok Gli è saltato la testa Va bene signori Allora io per questo video Mi fermo qui Non so quanto sia durata Ma sta succedendo la cacciara più terribile Cacciara più porosa E per questo video ci fermiamo qua Signori Io spero vi sia piaciuto Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Ci vediamo Sempre qui sul canale Per un posto contenuto Bella raga Ciao